Siamo con il dottor Fabrizio Remotti di Novi Ligure. Dottore, oggi c'è una grande opportunità per riacquistare un bel sorriso, grazie alle faccette dentali. Ci spiega che cosa sono e quante tipologie ne esistono. Le faccette dentali sono dei piccoli gusci in ceramica che vengono eseguiti artigianalmente sul dente senza limare assolutamente il dente. Quindi si cambia la forma dell'estetica del sorriso senza dover in una sola seduta. Si fanno due sedute, una seduta dove si fa lo studio del caso, dove noi facciamo delle impronte digitali, dove facciamo questa impronta del caso, dopodiché viene elaborata dal tecnico la faccetta. Queste faccette sono delle faccette particolari fatte su un foglio di platino, dove praticamente vanno a modificare l'estetica del dente senza ovviamente toccare l'acqua. Qual è la differenza tra le faccette che si usavano una volta e quelle moderne? Allora la differenza è che queste qui artigianali fatte sul foglio di platino, il dente non si tocca e quindi si va a cambiare la formologia, la forma del dente, l'estetica del dente senza andare a limare il dente. Mentre quelle di prima venivano assottigliato leggermente lo spessore del dente e poi viene incollata la faccetta praticamente. Il dolore è sempre lo stesso oppure è cambiato? Assolutamente, non c'è bisogno di fare anestesia, non c'è bisogno di fare nessuna cosa se non l'impronta digitale con lo scanner. Fine.